Avellino del Basket in Rosa ha salutato con grande entusiasmo il ritorno sui parchiè dell'Axi Basket, la squadra allenata da Donatella Buione. Così per caso si è riunita dopo tantissimi anni di assenza. Il gruppo squadra infatti è nato grazie alla passione di Donatella e Barbara Buione, Geda Dell'Anno, Valentina Gagliardo, Luana Piccolo, che da una partitella tra amiche in fra settimanale hanno deciso di rilasciare gli scarpini. La conferma arriva proprio da Geda Dell'Anno, centro delle azzurre. L'ultimo anno che ho giocato è stato il 2013, quando con Donatella dalla Serie C siamo salite in Serie B. Poi l'anno scorso, così per gioco, creai un gruppo con tutte le ragazze della pallacanestro andate e iniziamo a fare una partita alla settimana. Questa primavera Donatella mi ha contattato e mi ha chiesto cosa ne pensassi di ricominciare a giocare. Io e le altre veterane. Io ho accettato subito perché la pallacanestro da sempre è quello sport che ti toglie i pensieri negativi dalla testa. E quindi è stato un modo anche per ritrovare le ragazze di un tempo e aggiungere anche altre ragazze molto più giovani con le quali ci siamo fuse per cercare di portare avanti questo progetto. La nascita dell'Axi nel ricordo di due ocone del basket femminile avlenese, Mirosa Magnotti e il cavaliere Emilio De Feo. E' anche un modo per ricordare anche per esempio Mirosa che è stata con lei che ha creduto nella pallacanestro femminile nel 2005 quando tutti l'avevano data per spacciata, l'avevano abbandonata. Lei si ostinò e creò all'epoca la nuova Partenio nel 2005. Quindi poi da là sempre tutte noi, appunto quelle che hai citato prima Valentina Cagliardo, Donatella, Luana, Barbara, Silvia che per motivi suoi personali non è potuto rientrare, diciamo ci siamo unite ancora di più. Da quando ci rappresentava il cavaliere De Feo è un punto di riferimento. Fin quando andavamo giù al colletta c'era una piccola sede dove il presidente De Feo voleva che prima di ogni allenamento ci incontrassimo là per concentrarci e andare avanti. Amiche in campo ma soprattutto fuori, ecco cosa succede in campo quando le ragazze terribili scendono sul parquet. Da della pallacanestro sì, ci incontriamo anche fuori dal campo, però la cosa bella è che se ci siamo ritrovate dopo anni in campo non abbiamo neanche bisogno di parlare perché ci capiamo con gli sguardi.